Minecraft ma non posso usare la tastiera andiamo subito a creare un nuovo mondo e chiamandolo con un nome semplicissimo ovvero non usare la tastiera e ora andiamo subito a crearlo Ora che siamo nel mondo l'obiettivo principale come al solito è quello di trovare dei diamanti l'unico problema come al solito è quello che non posso usare la tastiera Questo vuol dire che non posso fare nessuna interazione tranne spaccare e piazzare dei blocchi però aspetta io ho un Logitech G502 Ok perfetto ora dovrebbe essere molto più semplice muovermi il problema aspetta quali erano i tassi allora ok così vado avanti allora ci dovrei più o meno essere con i tassi è un po' complicato eh Perché alla fine devo un po' la mia mano gli verrà un po' di male però ce la dovrei fare prendiamo un po' di legna creiamo una crafting creiamo un piccone prendiamo della pietra creiamo un piccone un'ascia in pietra Prendiamo del ferro cuociamo il ferro creiamo un piccone in ferro e ora andiamo a cercare diamanti Siamo che dopo un po' ci si abitua a questo movimento il problema è sempre il dolore alla... diamanti? questi sono diamanti? si 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 gode